senza bavaglio informazione libera sempre amici telespettatori ci siamo eccoci con senza bavaglio scusate ma in questa puntata sarò un po volgare perché davvero mi fanno diventare tale e penso alla situazione dell'aeroporto parlotta di grottaglie ci vengono negati vengono negati a taranto i voli civili i voli passeggeri da e per grottaglie è uno una serie di uno schiaffo anzi si parliamo di una serie di schiaffi che la regione puglia sta riservando al territorio tarantino ma non è solo emiliano da decenni taranto viene schiaffeggiata a vario modo dalla regione puglia per cui io dico che noi tarantini non subiamo non reagiamo quasi ci siamo rassegnati siamo diventati masochisti siamo come dire cornuti e contenti ecco l'espressione volgare cui facevo riferimento ci vengono negati i voli civili e noi stiamo zitti però in compenso le favole che ci vengono propinate le puttanate la destinazione aerospaziale di grottaglie dell'arlotta i voli suborbitali si faranno da e per grottaglie i voli per new york e quindi in due ore tu arrivi a new york o addirittura i voli nello spazio uno in un weekend tra qualche anno dirà me ne vado sulla luna quindi sulla luna si può andare partendo da grottaglie ma i voli civili non devono esistere questo ci dimostra quanto conta la nostra classe politica regionale in modo particolare come il 2 di coppe quando la briscola è a bastoni ossia nulla mi hanno davvero fatto rabbrividire e infuriare le parole del neo assessore ai trasporti e ritornato giannini non fosse mai tornato il quale dice basta con i localismi in un convegno tenutasi a bari organizzato dalla cis su turismo e trasporti dice testualmente è necessario se vogliamo realizzare un sistema moderno efficace veloce abbandonare logiche che prendono talvolta sia le forze politiche ma anche le organizzazioni sindacali territoriali il localismo non deve avere più spazio sostenere che si devono fare i voli civili a grottaglie che non si deve chiudere un punto di primo intervento in un comune che si deve fare che si devono fare i voli civili a foggia significa mettersi fuori dalle linee di sviluppo delineate dall'unione europea e dagli atti adottati dal governo italiano questo è quello che dichiara l'assessore regionale ai trasporti giannini una croce messa sulla città di taranto con riferimento appunto ai voli eppure parliamo di taranto di una città flagellata dall'inquinamento che attraverso i voli civili potrebbe farebbe al 100% incrementerebbe il suo turismo e darebbe una boccata d'ossigeno forte alla propria economia davvero boccheggiante ci viene tolto l'ossigeno sì perché i voli civili rappresentano davvero l'ossigeno queste sono le affermazioni di giannini quanta ipocrisia se consideriamo che a novembre dello scorso anno anche il presidente della regione il governatore emiliano aveva fatto riferimento alla imminente pubblicazione di un bando da parte della regione per 7 milioni di euro che non sottrae nulla ai due aeroporti forti brindisi e bari appunto e che invece come dire consente di attrarre avrebbe consentito di attrarre sugli scali di foggia e di grottaglie appunto compagni di attrarre compagnie low cost dicevo a foggia e a grottaglie quindi 7 milioni spariti per attirare queste compagnie promesse vi daremo 7 milioni per daremo appunto 7 milioni per far sì che le compagnie low cost possano investire possano vedere di buon grado gli fiscali di grottaglie e di e di foggia di questi 7 milioni è sparito tutto sapete cosa dice emiliano io non vi sto negando i voli civili ma dico trovate le compagnie diamoci da fare e possiamo anche parlarne e il ruolo di aeroporti di puglia la funzione di trovare compagnie dove è finita i vertici di aeroporti di puglia vengono profumatamente pagati per fare questi non per scaldare il culetto sulla sedia caro emiliano e cari signori di aeroporti di puglia quando l'aeroporto di bari alcuni mesi fa è stato chiuso per lavori mica i passeggeri sono stati dirottati a grottaglie sono stati dirottati a brindisi e brindisi scoppiava non si poteva neanche passe parcheggiare questa è la prova provata di come si vuole distruggere il territorio tarantino e s'autorarlo quando il signor calenda il ministro calenda è venuto a taranto a trovare melucci per la vicenda ilva e sapete dove è atterrato calenda a grottaglie e mica è atterrato a a brindisi mica è fesso calenda però noi abbiamo l'aerospazio e allora non non lamentiamoci signori cari quando un comitato taranto futuro futura chiede di passare alla basilicata visto che la puglia ci schiaffeggia ci sputa in faccia meglio andare altrove meglio andare in basilicata e allora è proprio vero l'espressione che uso solitamente noi tarantini siamo cornuti e contenti subiamo subiamo e subiamo e non ce ne rendiamo conto siamo quasi felici la regione puglia signori cari ci sta schiaffeggiando da decenni e noi non facciamo niente stiamo zitti noi siamo la città che muore di ilva con una percentuale altissima di tumori dovremmo fare una economia dovremmo vivere di turismo e il turismo si fa attraverso anche i collegamenti attraverso gli aeroporti capite bene taranto la vogliono cancellare dalla cartina geografica e allora vi dico a questo punto andiamocene via andiamo in basilicata se questi sono i presupposti se un un ministro un ministro magari per lui un assessore regionale dittatore si permette di sbeffeggiare in questo modo il territorio tarantino uniamoci uniamo le varie forze sane del territorio le varie associazioni e visto che la politica non lo fa e difendiamo il diritto di volare che a taranto che deve avere l'arlotta di grottaglia tarantini basta ad essere cornuti e contenti senza bavaglio informazione libera sempre